Lasciare il villaggio è stato molto difficile, credevo che il viaggio mi avrebbe riempito di una sorta di orgoglio, un senso di realizzazione, invece l'urgenza che mi ha spinto a partire è presto svanita, lasciando il campo a domande e a tanti dubbi, se fossi stato avventato, se avessi commesso un errore, gli altri al villaggio pensavano che fosse un mio desiderio, una mia decisione, ma io non l'ho mai pensata così, no, non è stata una scelta, è stato un obbligo, perché se non io, chi altri? Io vorrei farmi addestrare a te, ma io vorrei farmi addestrare a te, ma io vorrei farmi addestrare No Vattene via Io non me ne vado Vattene via Mi devo accampare Mi devo accampare Mi devo accampare Mi devo accampare Ci sarà un altro modo di entrare. Tu prego, ti chiedo solo di ascoltarmi un attimo. Chiedo scusa se non sono stato chiaro o se le mie parole possono averti confuso. Io non voglio che tu mi fraintendas, quindi ripeto, vattene dalla mia terra! Sto arrivando! Stammi a sentire, di che cosa hai paura? Paura? Credi che io abbia paura? È per giunta di una piccola canaglia come te! Ah, tu vuoi diventare un eroe, aiutare i deboli e salvare il mondo. Ma in questo modo andrà incontro soltanto alla morte. Il mondo va avanti, sai? Fallo anche. Io non me ne vado, hai capito? Non me ne andrò mai. Aspetta e vedrai. Io non mi arrendo tanto facilmente. Tu mi addestrem... È solo un vecchio. Sarà facile. L'hai detto anche l'ultima volta. E ho rimediato un cavallo morto e un occhio nero. Voi chi siete? Chissà che questi non sono affari tuoi, ragazzino. È meglio che sparisci o finirà davvero male. No. Noi ti avevamo avvisato. Ehi, amici! Il tuo spirito non ti salverà a noi. Che ci fate qui? Che cosa volete? Dovresti chiederlo al capo. Tu lavori per il vecchio, vero? È così? Forse adesso canterai. Grazie. Punisci tutto. Oh, io e te... Non mi fai. Oh, io e te... Non mi fai. E' l'ai. Grazie a tutti. Scusa. Non è colpa tua. Questo posto cade a pezzi. È un miracolo che sia ancora in piedi. Comunque, tu chi sei? Mi chiamo Radoanghedon. Già. Beh, non ci provo nemmeno a pronunciarlo. Ora, dimmi perché sei qui. Mi hanno detto di cercare questo simbolo. Ma hai una vaga idea di cosa rappresenta? O di cosa mi stai chiedendo? No. Eppure, eccoti qui. Lo spirito dice che... che io... Questi vostri spiriti perseguitano gli assassini da secoli. Da quando Ezio ha aperto il vaso. Ah, ma tu non sai nemmeno cos'è un assassino, vero? Ma mettiti comodo. Ho una storia da raccontarti. Temo che ci vorrà un bel po' di tempo. Ed ecco perché gli assassini si sono impegnati a sconfiggere i Templari. Perché se loro trionfassero, le visioni del tuo spirito liberrebbero realtà. Allora li fermerò. Oh, so già che ci proverai. Vieni. Devo mostrarti qualcosa. Stai attento. Dicevo sul serio. Questo posto cade davvero a pezzi. Come mai non lo sistemi? Ma a che scopo? E poi non ho i materiali per farlo. Basta comprarli. Guardami. Credi che io possa entrare in un negozio con un borsello colmo a fare spese? Sì. Perché no? Beata ingenuità. Di qua. Beata ingenuità. Non credere che basti entrare qui dentro e vestirsi così per diventare un assassino. No, io non pensavo certo... Non temere. Lo so che hanno un certo fascino. Eh, va bene. Ti addestrerò. Così sapremo se hai le doti per vestire quegli abiti. Grazie. Eh... Achille. Andiamo, su. C'è molto da fare. Non sei che feccia. Una nullità. Tu e tutta la tua gente. Vivete nel fango come bestie, senza sapere cos'è la vera civiltà. Che cosa vogliono i templari? Ciò che hanno sempre voluto. Il controllo. Vedono un'opportunità nelle colonie. La possibilità di un nuovo inizio lontano dal caos del passato. Per questo aiutano gli inglesi. Qui hanno la possibilità di dimostrare la validità del loro credo. Un popolo al servizio dei principi di ordine e controllo. Ho visto cosa succederebbe se ci riuscissero. Devono morire, è così? Tutti quanti. Anche mio padre. Soprattutto tuo padre. È lui che tira le fila dell'intero piano. Soprattutto tuo padre.